A proposito, non ve l'ho chiesto, ma è una cosa importante, perché vi chiamate i gatti di Venezia? Com'è nata questa cosa? Chi è che vuole rispondere? Chi è il portavoce? Siamo un po' a rispondere il mio fratello perché ha avuto l'occasione. Siamo tra amici che siamo trovati che facciamo così, come si fa a Venezia, qualche cantata, e siamo trovati su questo campiello, questo campiello qua, e ora facciamo una canzone, due canzoni, e dopo diremo, scontenti, questo gruppo qua bisogna dare un nome, perché se no, come facciamo? lo stesso nome non si va avanti, andiamo a guardare su un canton, infatti a Itano vedeva un gatto che dormiva, visto che si chiamavano i gatti di Venezia, e così si è nato il nome dei gatti di Venezia.